E la filiera della carne in Abruzzo a essere finita nel mirino dei carabinieri del NAS di Pescara, che hanno effettuato ispezioni in 10 allevamenti zootecnici e tra questi hanno individuato in provincia dell'Aquila un'attività di sezionamento e lavorazione carni clandestino, poiché privo della necessaria autorizzazione, al cui interno sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 400 kg di carni fresche, macellate clandestinamente, pronte per essere lavorate e commercializzate in località ad affluenza turistica. Il responsabile dell'attività, oltre che all'autorità sanitaria, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Sottoposti a vincolo sanitario altri 64 animali, bovini e ovini, privi di marchi auricolari di identificazione. In un altro allevamento bovino, i carabinieri hanno individuato un locale di deposito di carni lavorate, del quale non era stata presentata alcuna notifica all'autorità competente. Nel locale erano detenuti in fase di stagionatura circa 300 kg di insaccati vari, privi di informazioni utili a poterne ricostruire la rintracciabilità, anch'essi vincolati. Il bilancio totale dell'operazione contempla il sequestro di sette quintali di carni fresche e lavorate, sanzioni amministrative combinate per 15.000 euro e un valore di immobili e bestiame sottoposti a vincolo pari a 1,3 milioni di euro.